Ebbene carissimi amici ben ritrovati qui sul mio canale youtube come sempre una buona giornata a tutti voi, un buon inizio di settimana a tutti voi quindi ci prepareremo alle 4 estrazioni di questa settimana di dicembre e vedremo cosa andrà a succedere Spia 58 di Venezia, vi presento un'altra spia potente, le mie spie stanno annunciando grandi 90 le mie spie annunciano sempre i migliori 90 in assoluto, la spia 58 di Venezia ci porterà un grande 90 sulla ruota di Torino prendete assolutamente le mie spie perché sono metodi validi, metodi potenti, metodi vincenti e ve lo sto dimostrando con sfilze di ambate e di ambisecchi vinti a ruota quindi attenzione, metodo su ruota secca unica col 90 secco e con i 5 abbinamenti pronti a sbancare sulla ruota di Torino ma solo chiaramente nella modalità vincita avvenuta per chi mi contatterà via whatsapp 348 75 47 715 quindi contattatemi via whatsapp per avere il metodo completo, la previsione, il metodo rimane sempre vostro con la modalità vincita avvenuta dedicata, contattatemi per informazioni a partire da martedì 5 dicembre perché la spia 58 è del 2 dicembre sabato giocheremo il 90 secco a Torino, massimo 13 colpi, quarta e quinta posizione, 90 secco a Torino ruota unica, 5 ambi, metodo spia che rimane sempre vostro, contattatemi via whatsapp pensate che questo metodo in 20 casi spia ha pagato 28 ambate e la bellezza di 29 ambi a ruota una statistica pazzesca cari amici, ci sono anche i negativi, capita, capita anche nelle spie i metodi sono forti ma capitano però poi ci riprendiamo tranquillamente perché guardate poiché spilza di ambi secchi, arrivano costanza e fiducia nel gioco, sempre, sono le uniche armi per vincere, non questi burattini che vengono a contattarmi, che giocano 3-4 volte 5-6 volte e poi mollano e vanno a destra e a manca a cercare chissà quale miracolo vengono da me, vanno da un altro, poi vanno da un altro ancora, vanno da un altro ancora a cercare chissà quali vincite, senza capire che nel gioco dell'otto si vince con la costanza portando avanti le previsioni, rimanendo saldi sui metodi, chi riesce più a giocare di più gioca di più, chi riesce a giocare poco gioca poco, ma bisogna mantenere la costanza, che sia un metodo spia, che sia un metodo mensile, che sia una previsione, qualsiasi cosa guardate le spie, che cosa, combinano cari amici, condizione del 26 maggio, prendiamo questa, 65 capogioco portava il metodo con i 5 abbinamenti, guardate cosa combina, 1, 2, 3, 4 ambi con un'unica condizione cari amici, qua del 7 luglio è da lambata, non ci sono problemi, la condizione successiva, guardate cosa ci paga, 1 e 2, 2 ambi secchi, guardate che sfilza di ambi ha prodotto questo metodo, sulla ruota di Torino, ambi secchi, arraffica cari amici, arraffica, guardate che statistica, che bella statistica cari amici, 13 ottobri, guardate, doppio ambo, 18 novembre, guardate, ambo secco al primo colpo, 24 novembre, ambo secco al secondo colpo, cari amici, e cosa abbiamo qui, che sabato 2 dicembre abbiamo il 90, guardate quanti ambi ha prodotto questo metodo, dal calcolo del metodo il 2 dicembre esce fuori il 90, vi darò i 5 abbinamenti, ambo secco, unica ruota di gioco, nel metodo avrete gli abbinamenti più la statistica, questa statistica la potete visionare nel metodo completo che io vi regalo, sapete quanta gente sta vincendo con le mie spie, anche dopo le condizioni che presento del 90, quanta gente sta vincendo con questi metodi spie della collezione, perché ci sono tanti utenti che dopo la previsione del 90 vincita venuta, continuano a giocarsi il metodo, perché l'hanno in mano il regalo e continuano a vincere, continuano a vincere, perché sono metodi validi e mi arrivano i cedolini, quindi attenzione, perché vi do previsione, metodo che rimane sempre vostro, vi fate una piccola collezione, avete sempre delle spie potenti in mano, quindi sono occasioni da non perdere assolutamente, contattatevi via whatsapp, il numero è questo, 348 75 47 715, per aderire e avere informazioni sulla modalità vincita venuta delle mie spie, pronti a vincere un 90 sulla ruota di Torino con la spia 58 di Venezia, per adesso saluto a tutti i mister sbancolotti.